E' pericolosissimo, è pericolosissimo, si rompono le amicizie. Questo devo dire, almeno da parte dei nostri concorrenti, è il momento più atteso. Venite pure qua, il maestro Ciro Cino vi accompagnerà. Le regole le conoscete, mani dietro la schiena, si gira in senso orario. Quando e solo quando la musica si interrompe, potrete prendere una gallina a testa. Chi rimane senza gallina, torna a posto. Voglio arrivare in finale. Maestro, musica, uni. Possiamo stare vicino. Ah, così? Ma trancano le mani dietro la schiena. Trancano dietro la schiena. Come ci rinzeremo? Che è rimasto senza? Che è rimasto senza? Procopio! No, 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 no. Siamo arrivati in finale. Siamo arrivati in finale. Siamo arrivati in finale, Ciro. Siamo arrivati in finale. Tornate a posto, ma soprattutto per piacere. Lei non deve corrompere il maestro, ha capito? No, 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 io vedo dei scendi di intesa tra lei e il maestro. 3, 2, 1, musica! Ah! Basta, basta. Che è rimasto senza? Marta Filippi! Sì! Eh, va bene. Senta, lei non deve prendere accordi con il maestro, che è incorruttibile, vero? Una donna, donna, un'idea che nasce, un'idea che cresce, una donna... Lasci stare il maestro, non è articolo suo, non apprezza... Prego, musica! Vittoria Castagnotto, senti, ragazzi, abbiamo mandato fuori tutte e due le donne, ma come è possibile? Uno lo abbiamo buttato... Ok. Siamo in finale, noi. Niente da fare, niente da fare. Quindi, niente, si prosegue con una sfida tutta al maschile. 3, 2, 1, musica! Guarda che tensione, guarda che tensione! Stanno spostando il tavolo, guarda! E allora è fuori Biagio Vizio! Biagio Vizio! Ha toccato prima lui! No, qua pure si sta bene! Andiamo! Centrati! Ehi là! Mani dietro la schiena! Ma perché dobbiamo stare così? Giure che siamo con una concentrazione! Ma poi siete talmente attaccati al tavolo, ve lo state spostando, non lo dovete toccare il tavolo, va bene? Eh, non ce la faccio! Soprattutto lei! Dai Paolo, Tony! Soprattutto lei! Ma perché soprattutto io? Ma perché soprattutto io? Che lei sia biglia! Musica! Cos'è? Niente da fare! Ma Tranga! Chi è rimasto sempre? No, le hanno prese prima che finisse la musica Allora mettete i polli su tavola Qua la giuria Senta, lei deve lasciare stare il maestro Ma poi che accordi può prendere? No, ma non sto prendendo accordi Mi approfitto per salutare Eh, l'ha salutato una volta, l'ha salutato due, l'ha salutato tre Abbiamo un bel racconto Ma quante volte vi salutate? Si sono staccate Ma si conosce? Mani dietro la schiena, musica Ehi, Francesco! Minare! Via! Mani dietro il Francesco! Bene, mani dietro il Francesco Palantoni alle alle 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 Allora, Mani dietro il fuori però Diciamo che c'è Minafo a rappresentanza della Coppia Che continua ad essere in gara Vediamo come andrà a finire 3, 2, 1, musica! Signori, Francesco Palantoni E' fuori Ero lontano Ero lontano Troppo nel mezzo C'è rimasto nel mezzo Troppo nel mezzo E adesso quindi finalissima Voglio un gioco pulito Mani dietro la schiena Non toccate il tavolo Non toccate il tavolo Maestro Cirocino Musica Con il tuo fare не fai Po Ho! 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 Vincere! Minafo! Ho! Ho! Grazie, grazie! Lo vuoi dedicare a qualcuno questo premio? Lo voglio dedicare a tutte le persone che hanno creduto in me che in questi anni mi hanno insegnato a prendere i polli e al mio compagno Patranga, che è sempre... Ma scusate, ma Max che fine ha fatto? È andato via! Credo che sia giusto capire quando è il momento di andarsi No! Torna qua! Ma non si vince nulla! Non si vince nulla! Vieni qua! Ringraziamo il maestro Cirocino! Bravo! Adesso un gioco che metterà alla prova il vostro intuito, ma soprattutto le vostre...